Da Pescara a Roma termini in meno di tre ore passando per Chieti, Sulmona, Avezzano e Tivoli, in treno e con i vettori di Tua. Superato anche il secondo test su rotaia per consentire al personale viaggiante, macchinisti e capitreno in primis di acquisire le competenze tecniche di viaggio sulla tratta ferroviaria che avvicinerà l'Adriatico al Tirreno, la direzione ferroviaria di Tua, la società unica per il trasporto abruzzese, si prepara alla prossima prova è prevista presumibilmente per l'8 dicembre, in attesa che il progetto del collegamento veloce su rotaia con la capitale diventi operativo e competitivo con il supporto delle istituzioni politiche, come sottolineato dal presidente di Tua Gianfranco Giuliante. Dopo la prima di settembre stiamo continuando a testare le linee da utilizzare per essere più veloci e avere la maggiore capacità di abbreviare il percorso su Roma, ma contestualmente stiamo facendo attività di formazione dei macchinisti e degli operatori che in questo modo acquisiscono anche dimestichezza su una linea che noi vogliamo assolutamente portare a compimento in un tempo relativamente breve. Collegamento su ferro, collegamento veloce, di che tempi si parla? Stiamo testando la possibilità di farlo in meno di tre ore, è evidentemente un risultato importante rispetto ai tempi attuali, dopodiché c'è anche l'ulteriore vantaggio che è la fermata ai termini e quindi invece di andare da Tiburtina a Termini con mezzi altri in un'unica tratta e con un unico mezzo si arriva al centro di Roma. Quando effettivamente questo collegamento sarà operativo e quindi aperto agli utenti? Noi dovremo fare ancora qualche altra prova, ma poi c'è anche il combinato disposto della capacità del territorio, spero in modo bipartisan di mobilitarsi perché ci sono altri player che in questo settore si muovono, penso a Trenitalia, Perrovie dello Stato e con i quali stiamo trattando per avere le tratte le più veloci possibili con orari compatibili anche all'esigenza del territorio. In che modo la politica e le associazioni dovranno essere coinvolte? Creando condizioni per le quali il territorio facendo valere le ragioni, pensiamo agli studenti che debbano andare all'università e che si ritroverebbero a pochi passi dalla sapienza e comunque in un tempo relativamente breve possono utilizzare il treno per studiare e quindi non ci sono tempi morti. I sindacati che da sempre stanno spingendo per un'affermazione più importante del trasporto regionale a fronte in alcune circostanze dello strapotere di quelli che sono grossi prime, speriamo di trovare in una situazione che, lo ripeto, dovrebbe essere in questo caso bipartisan, il supporto dei parlamentari, dei consiglieri regionali, delle associazioni per far sì che questi obiettivi vengano colti.